Ah, avventuriero, hai salvato i bambini! Sì, dov'è la mia ricompensa? Avventuriero, dove sono gli altri bambini? Mi hai detto di salvare quattro bambini dai banditi. Ho detto di salvare almeno quattro bambini dai banditi! Bene, ho salvato quattro bambini. Avventuriero, sono stati rapiti quattordici bambini da Hollywood! Mi stai dicendo che ne hai salvati solo quattro? Sì, perché mi hai chiesto di salvarne solo quattro! Almeno quattro! Uno, due, tre e quattro! Avventuriero, mi stai dicendo che hai lasciato gli altri dieci bambini rapiti legati nelle loro gambe? Mi hai detto di uccidere tutti i banditi e salvare quattro bambini, così ho ucciso tutti i banditi e salvato quattro bambini. Ah, hai ucciso tutti i banditi? Beh, certo. Non ti ho chiesto di ucciderli tutti quanti? Volevo il loot. Aspetta, hai ucciso tutti i banditi? Sì! E chi darà da mangiare i bambini rimasti? Sì, almeno i banditi gli davano qualcosa da mettere sotto i denti! Non è un mio problema, scusa, ma non vedo come possa essere colpa mia. Se qualcuno ha la colpa, sei tu che non spieghi bene le tue missioni, cazzo. Ora dammi la mia ricompensa. Questo non mi è mai successo prima. La maggior parte degli avventurieri sono di buon cuore. Vedono gli occhi di questi bambini e si dicono... Sai cosa? Sono una brava persona. Sono una brava persona e li salverò tutti! Bene, immagino di non essere come tutti gli avventurieri. No, sicuramente non lo sei. Se ti dovessi dare un voto sarebbe un due! Che c'è da ridere? Niente, niente. Solo che due? Un grande due? Il più grande due! Oh, sì. Ah! Sei un mostro! Ho salvato quattro bambini. Bene, immagino sia così. Grazie avventuriero per aver salvato i bambini di Honeywood. Le vostre famiglie saranno sicuramente felici di risentire le vostre risate. Le altre famiglie invece saranno devastate dal dolore! E sti cazzi? Fai schifo. Semplicemente schifo. Ah, fatta una fancura. Grazie.